Amici di Mitico Channel, buonasera e ben trovati all'appuntamento con l'opinione del direttore. Siamo all'indomani di un pareggio come quello di Brescia, che ha dato al Foggia convinzione nei propri mezzi, soprattutto ha dato continuità ai risultati che i rossoneri stanno conseguendo da circa tre domeniche. Il pareggio con il Palermo in casa, che aveva un attimino restituito fiducia a tutto l'ambiente, ma poi il pareggio dei siciliani a dieci minuti dalla fine aveva lasciato sicuramente tanto rammarico in casa rossonera. Rossoneri poi chiamati a due trasferte di seguito, come quella di Carpi nel turno infrasettimanale di martedì scorso e quella di sabato con il Brescia. Due trasferte dalle quali il Foggia doveva cercare di uscire quantomeno con un po' di risultati, un po' di punti, anche alla luce di quelle che erano state le bruttissime prove di Pescara e Avellino, dalle quali il Foggia era uscito con le ossa rotte. Dicevamo di queste due trasferte, il Foggia vince a Carpi, lo fa in maniera splendida contro l'ex capolista e pareggia sabato a Brescia dopo essere andato addirittura in vantaggio 2-1. Un Foggia, quello di Brescia, che nel primo tempo aveva sicuramente gestito e tenuto a bada gli attacchi delle rondinelle, poi andando sotto di un gol con Caraccio che di testa infilava la porta rossonera. Nella ripresa tutta un'altra musica, tutto un altro Foggia, rientrava in campo una formazione determinata, concentrata, che davvero ha dimostrato di sapere cosa vuole. Prima Floriano pareggiava il conto dei gol in campo, poi ancora con Chirico rientrato nella ripresa, come già successo a Carpi, il Foggia andava in vantaggio. Peccato poi per il solito svarione difensivo che permetteva poi al Brescia di pareggiare l'incontro. Quattro punti in due trasferte che sicuramente rilanciano le quotazioni del Foggia a questo campionato. Un campionato che è cominciato da tre domeniche, possiamo così dire, dal pareggio in casa con il Palermo. Adesso il Foggia è chiamato, domenica 1 ottobre, ad affrontare il Novara allo Zaccheria. E' l'occasione giusta davvero per cominciare a staccarsi dalle parti basse della classifica e cominciare magari a fare un pensierino al lato sinistro della classifica. Un Novara che arriverà a Foggia dall'alto dei sei punti, proprio come i rossoneri, quindi una gara che il Foggia potrà giocare ad armi pari, un avversario sicuramente alla portata dei rossoneri di Mister Stroppa. Foggia che doveva dare continuità ai risultati sia della gara interna con il Palermo, sia del successo di Carpi, lo ha fatto anche a Brescia. Quindi diciamo di un Foggia che ha dimenticato la prima parte di questo campionato, una prima parte davvero da dimenticare, perché era un Foggia che aveva cominciato davvero male questa esperienza nel campionato di Serie B, un inizio shock, come lo abbiamo definito, un inizio shock che aveva per un attimo anche lasciato presagire ad un campionato davvero difficile. Adesso gli uomini di Stroppa hanno sicuramente ripreso fiducia, c'è armonia, c'è entusiasmo nell'ambiente, tutto questo bisogna continuare a tenerlo alto nel proseguio di questo campionato. Un campionato che il Foggia adesso è chiamato a gestire nel migliore dei modi, soprattutto adesso che Mister Stroppa ha trovato l'assetto giusto di questa formazione. Una difesa che, al di là di qualche svarione che pure ci sta, come a Brescia, ha comunque dimostrato di essere forse l'assetto giusto. Con l'ingresso di Loiacono a destra si è rivisto sicuramente un altro Foggia. Camporese e Martinelli poi al centro stanno dando sicuramente sicurezza anche agli altri compagni di squadra. Noi siamo dell'avviso che ancora qualcosa c'è da rivedere a centrocampo, dove a parte Vacca e Agnelli, fin quando le forze gli danno ragione, c'è da vedere ancora chi sarà la spalla di questi due calciatori, chi tra Agazzi, Fedele e magari anche Deli, che stiamo aspettando, il miglior Deli, perché sappiamo che è un calciatore che ha dei numeri, sicuramente anche lui potrà dire tanto in questo campionato. Così come la Gerbo potrà tornare utile in prospettiva in questa stagione. In avanti sicuramente un po' al di sotto di quelle che erano le attese, bomber Fabio Mazzeo, ma anche lui sicuramente non sta attraversando un buon momento, mentre ottime referenze per quanto riguarda Chirico a destra e anche Floriano, che da qualche partita a questa parte ha dato sicuramente un verve in più sul lato sinistro. Da rivedere è sicuramente Fedato, così come anche Beretta, dopo la bella prova di Carpi, coronata con il bel gol del 3-1, un Beretta che può ancora dire la sua in questo Foggia. Foggia che dicevamo è chiamato adesso sabato, anzi domenica nel posticipo, domenica 1 ottobre, è chiamato ad affrontare il Novara. Una gara da vincere, una gara che potrebbe davvero proiettare il Foggia ma nelle parti alte della graduatoria, anche perché il campionato di Serie B, come abbiamo visto, basta qualche domenica con dei risultati positivi, quindi dare continuità ai risultati, per trovarsi poi nelle parti alte della classifica. Un Foggia che sicuramente battendo il Novara potrebbe davvero cominciare a dare soddisfazioni al popolo rosso nero. A proposito del popolo rosso nero vorrei concludere questo mio appuntamento facendo un plauso alle due curve, la curva sud e la curva nord, che proprio sabato pomeriggio a Brescia hanno dato dimostrazione di essere davvero una tifoseria con la T maiuscola. Gli applausi e i complimenti anche dei tifosi bresciani, che hanno visto davvero un popolo al seguito di una squadra che viene osannata e appoggiata con tanto amore. Un amore quello che il popolo rosso nero continuerà a dare a questi ragazzi soprattutto e alla luce di quelli che sono i risultati che stanno arrivando e che sicuramente arriveranno. Un plauso anche a Mister Stroppa, era stato messo sulla graticola dopo la brutta prova di Avellino, il mister ha dimostrato, ancora una volta come è già successo l'anno scorso a Melfi, di avere lo spogliatoio dalla sua parte e i risultati continueranno sicuramente ad arrivare. L'appuntamento è la prossima, vi saluto e seguite sempre Mitico Channel. Buonasera a tutti.